Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani.Si sono diffuse molte indiscrezioni sul futuro di Giuseppe Garibaldi. La famiglia del concorrente, quindi, ha deciso di fare chiarezza. Giuseppe Garibaldi, durante il suo percorso nella casa del grande fratello 2023, ha accusato ben due malori. Dopo il primo svenimento, i medici gli avevano dato il permesso di tornare in gioco. Adesso, però, la situazione è decisamente più delicata. Il concorrente, infatti, ha avuto bisogno di ricorrere nuovamente all'aiuto dei dottori. Anche il pubblico aveva notato il suo deperimento fisico e il colore bianco della pelle. Al momento, ci sono molti dubbi sul suo eventuale ritorno. Il concorrente, infatti, potrebbe essere costretto ad abbandonare definitivamente il reality show. Di recente, il fratello Nicola ha deciso di intervenire per fornire maggiori dettagli sulla questione. Giuseppe Garibaldi non è ancora rientrato nella casa, le parole della famiglia. Giuseppe Garibaldi ha un seguito non indifferente su social network. Sono tantissimi i fan che credono in lui e che vogliono vederlo tornare nella casa del grande fratello 2023. Purtroppo, però, sta attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista medico. Il primo malore ha spaventato tutti, ma il secondo non ha fatto altro che aumentare i dubbi. È evidente che l'inquilino debba essere visitato con estrema attenzione. La produzione, infatti, non può permettergli di rientrare nel reality show senza garanzie. Un utente aveva inviato un messaggio ad Ianira Marzano per metterla al corrente delle condizioni di Giuseppe Garibaldi. Ha rivelato di essere vicino alla famiglia e di essere a conoscenza di alcuni particolari, pare che non tornerà, sta bene per fortuna, ha fatto accertamenti, ma era sotto stress e quindi anche il GF non vuole prendersi questa responsabilità. In realtà, sembra che le cose non stiano proprio così.Il fratello di Nicola ha sentito il bisogno di intervenire. Ha invitato le persone a non dare ascolto alle voci di corridoio. Il 30enne, al momento, si trova sotto osservazione in modo da poter eseguire tutti gli accertamenti del caso, diffidate di questi amici di famiglia, conoscenti e quanto altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni verranno date dal profilo ufficiale del grande fratello. Per scoprire cosa succederà a Giuseppe, di conseguenza, non bisognerà fare altro che attendere le successive comunicazioni. Il concorrente non si è ritirato dal reality show e, con i necessari permessi, potrebbe ancora tornare in gioco. Ovviamente, tutto dipenderà dalla sua salute e da ciò che diranno i medici.